Due uova, un pizzicino di sale, un po' del basilico, un frittadino di basilico, un frittadino di basilico, no? Facciamo bene per la uova se non restano le nostre scelte per la luce. Facciamola andare ovunque, facciamo andare l'olio ovunque così vediamo. Versiamo l'olio per la uova e faccio un bel bel belissimo, un po' dappertutto. Questa è un po' in pendenza. Faccio così, posso fare come faccio io? Certo. Qua si mette la bontà della padella perché vedi come viene bene. Perfettamente le regole. Allora, a me la fissata piace da manire, quindi... Grazie. 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 Grazie.